Stamattina siamo qua a dare un premio a tutti i bambini che sono venuti a farsi vaccinare. Il premio è l'album delle figurine 2022 dei nostri cucciolotti. Li stiamo donando sperando che poi possono andare avanti riempiendo l'album con le figurine e di conseguenza fra una mesata faremo probabilmente il primo grande scambio. I bambini sono contenti e l'idea di avere un premio gli è piaciuta. Anche un incentivo per i bambini più piccoli per vaccinarsi. Certo, senza altro. E poi comunque è sempre un album abbastanza interessante per tutte le notizie che riguardano gli animali e oltretutto la casa editrice per questa attività regala poi a noi pancali di cibo per gatti o per cani da dare ai bisognosi e di bisognosi ce ne sono tanti. Prossimo appuntamento mercoledì 9 febbraio dalle 15 alle 17 alle 5 torri con altra consegna di album di figurine e bambini al nuovo hub di vaccinazioni pediatriche di Via Nanterre.